Ancora poche ore e sarà a Monopoli Catania. Comincia contro gli Etnei il campionato dei bianco-verdi di Alberto Colombo dopo il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C e i calci di rigore ai danni del Potenza. I rossazzurri si sono privati dei calciatori con gli ingaggi più importanti, dando l'addio in estate ai centrocampisti dall'Olio e Welbeck e agli attaccanti Sarau e Di Piazza, tornato a Catanzaro dal prestito e poi finito ad Andria. Gli Etnei adesso sono un mix di calciatori giovani e esperti, con Giosa e l'argentino Monteguado a guidare la difesa, l'è spinto sulla sinistra e il confermato Calapai che dovrebbe agire sulla destra. In mezzo al campo, dopo gli adi di Welbeck e dall'Olio, le chiavi sono state affidate a Maldonado che dovrebbe giocare con ai lati Provenzano, Eximolese e Rosaia. Anche l'attacco è quasi tutto rinnovato con l'ex Feralpi Salocce, Carelli e Rossini, nomi nuovi accanto al confermatissimo Reginaldo, match winner della sfida di Coppa contro la Vibonese. Il Monopoli ci arriva con un occhio vigile sul mercato, da dove sta per arrivare Zaccaria Mlili. La trattativa con il Bari è in fase avanzata, il calciatore accetterebbe una proposta con base triennale. Il suo arrivo al momento sarebbe subordinato all'acquisto di Semenzato, che però non pare ancora convinto di accettare la piazza monopolitana. In attesa di notizie, la società ha ceduto nel frattempo Michele Currarino al Fiorenzuola.